benvenuti e benvenute è un tema pazzesco quello delle radici però è vero quello che dice giuseppe che il tuo libro è perfetto perché questo è un libro che alle radici ci arriva dopo la storia immagino la conosciate perché un libro di cui si è parlato molto ma ci arriviamo c'è una figlia che è Maria Grazia che indaga sulla storia dei suoi genitori biologici e la cosa più affascinante che tu dici all'inizio di questo libro ed è la prima cosa su cui vorrei che riflettessimo è questa ho scritto questo libro perché volevo rendere mia madre reale che è una frase Maria Grazia è una poetessa è una scrittrice soprattutto una poetessa ed è la frase di una poesia sapete la poesia dice quello che dice insindacabile però è abbastanza impressionante che una figlia dica rendo reale mia madre e questo è un libro sulla costruzione di una madre e di un padre la costruzione di una famiglia la costruzione di due personaggi certo l'indagine sulla realtà di questi due personaggi però ogni indagine è una è una costruzione di solito siamo abituati al processo inverso no sono i genitori che crescono mettono al mondo fanno venire al mondo e invece tu hai fatto venire al mondo tua madre soprattutto la tua madre biologica almeno a me questo è sembrato il racconto il tentativo di farla venire al mondo di tirar fuori questa storia e certo le tue radici ma soprattutto le radici di questa la storia di questa donna e adesso devi dirci anche tu se storia e radici coincidono o collidono perché questo è il tema del nostro tempo così come il nostro il tema del nostro tempo è quello dell'identità che cos'è è una cosa fissa con le radici affonda la possiamo decidere dipende da noi è qualcosa con cui nasciamo buonasera intanto grazie sì è una bella domanda nel senso che io indagando sulla figura dei miei genitori e particolarmente di mia madre mi sono trovata ad indagare sull'italia mi sono trovata a dover confrontarmi con il periodo storico con le leggi con con le circostanze sociali economiche quindi questo significa che le radici sono le persone le storie sono evidentemente determinate dal contesto in particolare la storia di queste due persone lucia giuseppe sono state estremamente determinate dal contesto nel senso che la loro stessa condanna a morte purtroppo auto condanna a morte è stata determinata dal contesto è stata determinata da un vuoto legislativo è stata determinata da da una serie di pregiudizi che loro si sono trovati a dover affrontare particolarmente mia madre quindi sì la storia significa occuparsi della storia le radici non sono inamovibili le radici sì nel senso che essendo passato del tempo sono quelle e sono date però senza quello che c'è intorno la radice di per sé significherebbe poco quindi per riuscire a capire il perché di tante di tutta la vita in realtà di tutta la biografia di tutta le della decisione dell'abbandono della decisione del darsi la morte ho dovuto conoscere che cosa succedeva intorno a loro allora per per chi non avesse letto il libro non conoscesse questa storia questa è una storia vera come si dice tra l'altro questa è un'altra cosa sulla quale potremmo ragionare io penso sempre che non esistano storie non vere perché penso sempre non esistono storie non vere nel senso che tutto quello che accade diventa letteratura per chi scrive chi ha questa malattia questa ossessione della scrittura tutto quello che accade tutti 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 i personaggi tutte le storie tutte le invenzioni io sono convinta che abbiano delle radici ma è evidente insomma che hanno delle radici nella biografia poi ci sono dei casi nei quali la biografia viene proprio esplicitata e quindi questi sono si dice una storia vera ma sono è vera ragione sono tutte storie vere sono tutte storie che hanno a che fare con col sangue il corpo degli scrittori perché il corpo degli scrittori ha una parte predominante e la mia tendinite lo mostra ogni volta che scrivo un libro mi fa male una spalla per mesi è evidente non è un coinvolgimento fisico quindi anche quando le storie sono apparentemente inventate sono fatte col corpo di chi scrive no ma mi spingo oltre penso anche che il prodotto di invenzione nel momento in cui viene inventato diventa reale cioè penso ancora a questo i conti immagini qui siamo tutti grandi lettori tutti noi facciamo i conti con le storie inventate che abbiamo amato ci combattiamo a vita io non mi libererò mai di non lo so di tutti i personaggi di martin emis perché è una mia follia ci faccio i conti più di quanto faccio i conti con amici in carne ed ossa intendo questo e però questo credo abbia a che fare con quello che dicevamo all'inizio del rendere reale mia madre di cui hai parlato tu ma sì anche anche nel caso di una storia vera no è vero anche il contrario nel senso che anche nel caso di una storia vera soprattutto della storia vera di una persona mai conosciuta il margine della non dell'invenzione della verosimiglianza è evidentemente molto elevato però io sono convinta che si e questo lo dico ripetutamente nel libro cioè che analizzando i fatti guardando i fatti cercando di togliersi di mezzo osserva per quanto possibile ovviamente osservando le cose per quello che sono si riesce ad arrivare alla loro essenza quindi anche a conoscere una persona che non si è mai conosciuta non per interposta persona ma per interposta fattualità quindi analizzando le tracce che sono state lasciate alle spalle delle persone analizzando quello come loro hanno vissuto si può riuscire a capirle si può riuscire a interpretare la loro la loro anima la loro i loro sentimenti le loro decisioni i loro pensieri quindi insomma è reale e il confine tra reale e immaginario diciamo che nel mio specifico avevo desiderio di renderla proprio reale veramente reale è chiaro che è un'operazione un tentativo destinato a fallire nel senso che poi anche nel momento stesso in cui finisce la scrittura finisce l'immaginazione della realtà però anche nelle parole rimangono delle tracce che sono delle tracce fisiche Maria Grazia ce la racconti tu questa storia? ma è la storia di una di una ragazza di una ragazza che era di una ragazza di campagna nel Molise degli anni 30 l'è nata nel 1936 che a 12 anni si innamora di un ragazzino che era venuto lì dall'Abruzzo ed era un senza terra uno che lavorava la terra d'altri e quando lui la chiede sposa i genitori rifiutano questo matrimonio perché appunto lui è un senza terra invece Lucia questa così si chiama questa ragazza aveva la terra e quindi la costringono a sposare il figlio del confinante per espandere la loro proprietà ma io dico per capire queste dinamiche bisogna aver vissuto quella miseria nel senso che io astrattamente mi sembrava una cosa terribile che uno cercasse di strappare dal cuore di una ragazza un innamorato per imporne un altro quando sono andata con mia figlia peraltro in questi luoghi quando ho sentito parlare di quella miseria ho capito che effettivamente era talmente feroce la vita che i sentimenti avevano un rilievo molto scarso l'unica cosa che davvero contava era cercare di non morire di fame quindi insomma lei è stata costretta come tante come tante tante tanti è stata costretta a questo matrimonio purtroppo questo matrimonio si è rivelato particolarmente infelice e questa Lucia era una ragazza incapace di rassegnarsi ad essere picchiata era incapace di rassegnarsi ad essere infelice e quindi dopo essersi lamentata per sette anni è durato questo matrimonio quotidianamente senza essere ascoltata si innamora di un altro uomo si innamora di un uomo molto più grande di lei lei aveva 28 anni e questo uomo ne aveva 56 già sposato con cinque figli che era andato lì per costruire un serbatoio perché in quelle campagne non c'era neanche l'acqua però un serbatoio della raccolta delle acque questo amore le permette di fare un gesto folle per quella per l'epoca nel quale lei lo ha fatto cioè un'epoca nel quale non c'era il divorzio lasciare il marito lasciare la casa coniugale ed andare a vivere con lui con questo Giuseppe siccome non c'era il divorzio il marito aveva la facoltà di denunciarla e si è avvalso di questa facoltà di denunciarla l'ha denunciata per tre reati cioè abbandono del tetto coniugale concubinaggio adulterio e tra l'altro qui io segnalo sempre una differenza che c'era nella legislazione tra uomini e donne perché le donne potevano venire accusate anche soltanto per un tradimento quindi per adulterio gli uomini no era necessario che convivessero con la nuova compagna perché la donna era ritenuta essere il collante del nucleo familiare e quindi un tradimento di una donna avrebbe significato il disgregarsi della famiglia quello dell'uomo evidentemente no nel pensiero dei legislatori dell'epoca quindi comunque loro lei e quindi anche lui in quanto correo denunciati scappano a Milano si rifugiano a Milano dove hanno una vita però molto grama nel senso che loro non possono lavorare avendo delle denunce pendenti non possono lavorare non possono esplicitare le proprie generalità quindi lavoreranno in nero fanno perdere le loro tracce infatti il periodo più difficile da ricostruire è stato proprio quando loro stavano a Milano perché lì c'erano soltanto cartelle cliniche c'era la cartella clinica del parto infatti io sono andata a Milano e c'era la cartella clinica di un mio ricovero dal quale si deduceva un indirizzo diciamo che in quella città loro vanno a vivere nella periferia sempre più estrema in condizioni di povertà sempre più estreme finché architettano un piano di abbandono e suicidio che io non ero arrivata a capire perché mentre credevo di stare scrivendo un libro contro i pregiudizi ero affetta io da pregiudizio nel senso che era un piano così intelligente che io non avevo capito che una ragazza con la seconda elementare e un muratore poco più di un muratore avessero pensato ideato un piano così intelligente questo piano era e l'ha capito mia figlia che infatti sta nel libro e come dire scioglie due nodi così di assoluto rilievo per riuscire a capire tutta la storia e il piano era lasciarmi in mezzo a una strada praticamente in un prato a Villa Borghese mandare una lettera all'unità nella quale mi si poteva identificare come la bambina lasciata a Villa Borghese perché questo? questo me l'ha spiegato mia figlia perché siccome gli abbandoni erano e sono tanti tutti gli anni tutti i giorni se mi avessero lasciata in una chiesa in un beffotrofio sarei potuta essere confusa con chiunque altro invece hanno scelto un luogo nel quale potessi essere unica quindi riconoscibile immediatamente tramite la lettera mandata all'unità in questa lettera infatti c'è scritto la bambina trovata a Villa Borghese si chiama eccetera eccetera e e poi loro si vanno a suicidare perché la loro vita era diventata semplicemente impossibile nel senso che non avevano possibilità di costruirsi una vita nuova e Lucia non aveva neanche la possibilità di tornare indietro perché indietro c'era un marito che ha scritto in risposta alle suore dell'orfanatrofio dove io ero stata ricoverata a Milano in quanto figlia illegittima una lettera di una violenza tale che mi ha fatto capire perché Lucia non potesse tornare da lui quindi l'unica soluzione che loro avevano era togliersi di mezzo e avere ancora fiducia nella nell'umanità e cercare di di far sì che la loro figlia fosse avesse una vita migliore della loro grazie è una storia gigantesca che tu racconti raccontando anche l'Italia questo libro parla dell'Italia degli anni 30 fino agli anni 70 soprattutto tantissimo poi certo ci sono le tue incursioni nel nostro tempo le indagini insieme insieme a tua figlia ma la questione dell'abbandono che sembra quando la si legge in questa storia sembra appunto un fatto di un tempo no? invece una realtà concreta vi ricordate tutti quanti di certo perché se ne è parlato tantissimo del fatto di cronaca del bambino Enea lo ricorderete senz'altro ecco lì c'era una mamma che aveva deciso di abbandonare suo figlio io ho sempre pensato che la parola abbandono fosse sbagliata per la connotazione negativa che noi diamo ad abbandono e mi ricordo che tu avevi detto e scritto in quell'occasione che l'abbandono è anche una forma d'amore vorrei sollecitarti su questo e poi ti faccio un'altra domanda ancora che è quella che mi faccio io tutte le volte che penso al fatto che ci sono delle madri e ci sono dei padri ci sono dei genitori che decidono di affidare i bambini all'ignoto mi chiedo sempre se non dovremmo forse avere tutti la forza di guardare dentro quel gesto che è molto drammatico anche una enorme forma di fiducia verso il prossimo beh allora io è una domanda complessa nel senso che è vero io è vero che io ho detto quando sono stata intervistata in quanto abbandonata sugli abbandoni degli altri è vero che io ho detto che effettivamente anche perché i miei genitori in questa lettera scrivevano la affidiamo alla compassione di tutti però questo è vero nel senso che l'intenzione di un genitore non è evidentemente quella di abbandonare un figlio ma è quella di consegnarlo appunto con fiducia con speranza con una disperata speranza alle mani di chi lo raccoglierà e chi lo accoglierà però nello stesso tempo è vero che quel bambino non potrà non sentirsi abbandonato quindi e dovrà fare i conti per tutta la vita con questa cosa quindi io dico sono vere entrambe le cose è vero che quella persona si sentirà abbandonata ed è giusto chiamare abbandono l'abbandono perché è un modo per legittimare anche i suoi sentimenti è però vero che le intenzioni dei genitori tu citavi questo ragazzino Enea che è stato accompagnato da una lettera di una madre che evidentemente lo amava moltissimo allora è chiaro che l'intenzione di quella madre non era quella di fargli del male ma era quella di consegnarlo a qualcuno che ne avrebbe potuto avere cura meglio di quanto avrebbe potuto fare lei ma la domanda è perché perché non siamo in grado ancora oggi nonostante ci sia il divorzio nonostante ci sia il diritto di famiglia sia stato modificato secondo delle diciamo delle normative molto più attuali e molto più rispondenti all'evidenza dei fatti della realtà perché non siamo comunque capaci di accogliere tutti i bambini in qualsiasi situazione nascano cosa è successa alla madre di Enea in quel caso ti ricordi è stato vi ricordate Ezio Greggio che offriva del danaro offriva del danaro magari con le migliori intenzioni ma dimostrando di non capire che non può essere un motivo economico quello per cui una madre arriva ad un gesto così terribile come abbandonare un figlio che è un gesto impensabile io non avevo nulla da perdonare a mia madre ma mi sono chiesta sinceramente per tutta la vita come ha fatto soprattutto dopo che sono diventata madre come ha fatto fisicamente a separarsi perché è una cosa impensabile cioè io vivo con il i miei figli hanno 22 anni e 15 io vivo col telefono se fosse mai che mi chiamano ora vabbè io sarò particolarmente ossessiva anche probabilmente per ragioni biografiche però è un gesto impensabile quello di strapparsi soprattutto un bambino così piccolo come ne è o come ero io a otto mesi che ti cerca che ha bisogno che è assolutamente completamente dipendente quindi per poter concepire ed attuare un gesto del genere devono esserci delle ragioni molto più gravi delle ragioni economiche che ovviamente non vanno sottovalutate ma che non possono essere determinanti in una scelta del genere quindi per risponderti con appunto con queste due parole sono vere entrambe le cose abbandono e affidamento dai due punti di vista diversi Maria Grazia ti faccio una domanda molto difficile sì perché è un'altra domanda del nostro tempo che cos'è che rende genitore cosa fa una madre una madre fa tante cose diverse fa tante cose diverse guarda la prima cosa che mi è venuta in mente mentre tu parlavi è stato libera che è la cosa più difficile in realtà accura cresce e si fa da parte ora non magari in maniera così estreme come hanno fatto Lucia Giuseppe e la mamma di Enea però credo che il compito di un genitore sia quello di rendere il figlio sempre più ed è il compito più difficile questo quello di rendere il figlio sempre più capace di stare saldo sulle sue gambe e di andarsene Alda Merini che era un personaggio che tutti conosciamo anche così un po' turbolento diciamo così diceva che la maternità è essere abbandonati ed è un po' vero è essere ripetutamente abbandonati un pezzettino per volta lo primo abbandono è abbandono insomma separazione a parte la nascita che evidentemente è la prima separazione poi quando è la prima volta che vanno alla scuola e tu li devi lasciare torni a casa e dici oddio mi manca qualcosa eccetera 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 fino a quando poi invece vanno l'Erasmus si sposano eccetera eccetera quindi credo che sia la capacità di amare a distanza senza amare incrollabilmente senza senza mai far pesare niente la tua mamma biologica tu l'hai amata non avendola mai conosciuta è ovviamente è chiara questa storia qui nel momento in cui c'è un momento bellissimo del libro quando per la prima volta tu la vedi vedi la fotografia e la vedi perché l'hai cercata cioè tu a un certo punto vedrete in questo libro il libro è anche il racconto di questa indagine che Maria Grazia intraprende le fonti la relazione con le fonti i giornali le fotografie e quando tu vedi la fotografia capisci che è lei perché è identica a tua figlia ecco allora io l'ho trovata una scena di grande amore ma io sono condizionata dalla mia storia familiare che è una storia familiare più lineare nella quale vedere le fotografie significa riconoscere qualcuno che ami ma perché lo conosci e lo riconosci anche se il tempo ha agito su di lui lì è proprio il primo sguardo che tu hai avuto è uno sguardo d'amore l'amore è arrivato dopo che relazione c'è con una mamma che si conosce attraverso mezzi indiretti allora io di questa storia ho saputo quando avevo quattro anni quindi ho saputo a quattro anni di non essere figlia biologica della mamma che mi ha cresciuta diciamo che nei momenti in cui non andavo d'accordo con la mia mamma adottiva c'era questo rifugio ideale quindi anche perché una la mamma adottiva era bionda e l'era bruna per cui c'era questa mamma bruna che mi proteggeva che idealizzavo in qualche modo è altrettanto vero che non ho mai cercato davvero notizie su di lei per un senso di fedeltà nei confronti della mamma che mi ha cresciuta perché anche se lei quando avevo 18 no neanche 18 anni un po' prima mi aveva pure accompagnata al paese insomma a conoscere i parenti però era gelosa non si può non si può negare questo insomma era qualcosa che la faceva soffrire quindi diciamo che se io non fossi stata portata proprio dalla vita a indagare su Lucia non non lo avrei fatto mai adesso che l'ho fatto sono molto contenta di averlo fatto anche per i miei figli e anche perché io conosciuto mi sono innamorata di questa persona perché ho incontrato cioè quando ho cominciato a ricercare notizie di lei e di loro io non sapevo perché si fossero uccisi lo trovavo soltanto un gesto assurdo ma potevano essere presi da una depressione potevano essere degli egoisti potevano essere qualsiasi cosa poteva essere che lui avesse ucciso lei come peraltro ventilavano fra le righe molti giornali e anche per altri parenti di lui e ho conosciuto invece una ragazzina che voleva una vita vera che non si sottometteva che voleva essere libera ma senza fare niente di male nel senso voleva voleva vivere essere felice e quindi e che ha cercato di superare tutte le difficoltà ha compiuto dei gesti assurdi per l'epoca e quindi non so bene se dire che l'ho amata come una madre che l'amo come una madre forse l'amo più come una figlia che è piccola è piccola è forte è ribelle vuole essere libera vuole essere felice cerca si mette contro tutto contro tutti e non ha vive in una solitudine straziante perché lei non ha nessuno vicino neanche la sua propria madre tua mamma la va a riprendere quando lei riesce spinta da questa forza evidentemente interiore e amorosa dal sogno dal desiderio riesce ad andare via dalla casa coniugale la madre la va a riprendere non c'era nessuno vicino a lei che sostenesse il suo desiderio di vivere quindi come fai a non adottarla come fai a non volerle bene grazie mi colpisce molto quando dici l'ho amata come una figlia perché significa appunto anche quello che tu dice all'inizio io l'ho resa reale le ho dato una vita però significa anche una io poi parlo da inesperta perché non sono una mamma però sono una figlia sono profondamente figlia e so che esiste una responsabilità che è doppia tra mamma e figlia conosco la responsabilità delle figlie nei confronti delle madri non conosco bene quale sia la responsabilità invece delle mamme nei confronti dei figli ma ti chiedo se quella responsabilità è mai un limite se conoscere questa storia e indagarla insieme a tua figlia che come ci spiegavi ti ha anche sciolto dei nodi ti ha fatto capire qualcosa in più del rapporto dell'essere madre e di che cosa significa anche essere figlia e visto che parliamo di identità Maria Grazia le madri lascio da parte i padri poi ai padri ci arriviamo ma le madri sono condizionanti assolutamente sì per quanto per quanto possano essere capaci di lasciare andare sono condizionanti per il semplice fatto che esistono e come le figlie sì ma certo però voglio dire io credo che la cosa che funziona poi nell'educazione di un figlio non siano le chiacchiere le parole sia quello che fai tutti i giorni quotidianamente e quello che tu fai quello che i figli ti vedono quotidianamente fare non può non condizionarli cioè mia figlia fa il classico mio figlio studia storia se fossero nati magari in una famiglia dove che ne so di medici avrebbero scelto medicina io faccio mia mamma era la mamma che mi ha cresciuta era una professoressa di lettere che sognava di scrivere un romanzo cioè come è ovvio che purtroppo non se ne poi certo ci sono dei casi nei quali è una combinazione fortunata è pericoloso quando invece l'inclinazione naturale di una persona non coincide minimamente con quello pericoloso o appunto lì sta alla capacità del genitore di lasciare andare no cioè se mio figlio avesse deciso di fare il macellaio non è che io volevo che studiasse storia ma sono certa che la mia esistenza in vita proprio lo abbia condizionato quindi a meno che non ci sia un'inclinazione fortissima dentro le persone che li porta proprio da un'altra strada e questa inclinazione fortissima non lo so da dove venga per esempio mia madre scriveva mia mamma biologica scriveva probabilmente poesie perché da dove le era venuta fuori questa cosa e si trasmette per via genetica o si trasmette per l'educazione però ecco quello di intorno a quello che dicevo prima cioè la cosa alla quale veramente dobbiamo fare molta attenzione è cercare di oltre il condizionamento naturale che c'è di non esagerare nel condizionare appunto i nostri figli e questa storia cosa mi ha insegnato come madre forse a non coinvolgere così anche se poi non è stata una mia scelta è venuta lei incautamente in realtà però forse a non coinvolgere così tanto i figli nelle nostre storie anche se poi ovviamente la riguardano però forse se lo facessi adesso no non è vero sto mentendo non lo farei da sola lo farei di nuovo con lei e le sono infinitamente grata di averlo fatto insieme a me però non sono sicura che sia una cosa giusta è una cosa molto bella è una cosa molto poetica perché lei l'ho scelto perché c'è una linea femminile che casualmente ha escluso mio figlio Arturo perché era fidanzato quindi non poter fregare di meno della nonna ma è bello no è bello che ci sia stata questa continuità tra Lucia Maria Grazia Anna però forse è tanto è tanto è una storia grande una storia forse eccessiva ecco forse forse non avrei dovuto farlo insieme a lei ma sono contenta di averlo fatto insieme a lei grazie mi veniva in mente un libro di Michela Marzano di qualche anno fa non so se ve lo ricordate adesso Stirpe Vergogna mi pare si chiamasse in cui lei raccontava la scoperta di aver avuto un nonno fascista e dice e raccontava che questa scoperta era stata condizionante per lei tra le tante cose anche rispetto alla scelta di non essere madre che poi è stata una scelta fino a un certo punto come tutto è una scelta fino a un certo punto nella nostra vita e lei raccontava molto bene il terrore di trasmettere qualcosa di quella storia che pure lei non aveva mai conosciuto però diceva io non saprò mai se mettere al mondo un bambino significa anche trasmettergli quel qualcosa che nella famiglia c'è stata il germe di quel male ti chiedo questo no quando si diventa quando si scopre di arrivare da una storia e poi si diventa genitori c'è davvero mai questa paura di trasmettere qualcosa che non controlli un male che c'è stato prima una storia tragica una una qualche una qualche cosa che può essere problematica perché i bambini non nascono io sono perfettamente convinta di questo poi magari mi sbaglio la scienza mi dirà che mi sbaglio non lo so però io sono perfettamente convinta che non si nasca tabula rasa e credo che i genitori facciano i conti con questo ma allora diciamo che io ho molta fiducia nel presente ho proprio fiducia nella vita però 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 beh si dice che che i suicidi saltano una generazione quindi non lo voglio neanche pensare ovviamente non credo che sia geneticamente vero credo però anche io sono d'accordo su questa cosa che tu dici della della memoria genetica non una memoria biologica nella quale noi portiamo dentro qualche cosa per esempio l'ho sperimentato è scritto anche nel libro questo l'ho sperimentato personalmente in una maniera assurda nel senso che mi sono trovata a un certo punto racconto nel libro di fronte alla casa di campagna dove aveva vissuto mia madre e mi sono girata verso mia figlia ho detto scusa Anna cosa ti ricorda questa casa e lei mi ha detto lo levano cioè un posto che io ho scelto perché mi ricordava qualcosa che non sapevo quindi no questa cosa evidentemente esiste ma torno a dire ho molta fiducia nella vita e nel presente ho molta fiducia che noi possiamo anche se c'è una catena traumatica possiamo facendo fatica magari altri no ma facendo un po' di fatica possiamo interrompere questa catena e abbiamo credo che abbiamo anche il dovere per quelli che verranno dopo di noi e forse anche inconsapevolmente questo è un tentativo di interrompere nel senso di mettere o di non lasciare in eredità un'incognita un fantasma ma lasciare sì una storia tragica ma una storia anche di forza una storia di volontà di vivere non so se questo modifica il passato spero che modifichi il futuro grazie vorrei che parlassimo della forma di questo libro fino di virgole non sai com'è Foss e allora perché è una forma ibrida perché Maria Grazia è una poetessa e ci sono è un la sua prosa è molto poetica ma ci sono delle parti in cui tu ricorri non all'ibrido ma alla poesia pura vorrei sapere perché e se è successo perché invece la prosa diciamo la letteratura è insufficiente a volte e ha bisogno di aiuto io se avessi bisogno di aiuto se facessi la scrittrice avessi bisogno di aiuto probabilmente userei la musica per dire quello che le parole perché so che le parole non possono dire la poesia e la musica delle parole non lo so però vorrei sapere che cosa è successo precisamente nel momento in cui hai iniziato un capitolo proprio hai iniziato un capitolo con una poesia che che bisticcio c'è stato con la prosa allora io me ne sono resa conto a posteriori perché non è stato programmatico ma mi sono resa conto che in entrambi i libri sia in questo che in quello precedente nel momento in cui racconto la morte uso la poesia in questo libro anche quando racconto l'infanzia quindi quello evidentemente è quello che non conosco perché dicevi giustamente la poesia è musica è musica fatta con le parole ed è una una forma che lavora sulla suggestione che lavora sull'evocazione e che lavora sull'universale e soprattutto che lavora sul mistero cioè evidentemente noi non sappiamo almeno io non so nulla della morte e nel momento in cui nel caso del libro per la mamma adottiva era anche una forma di pudore perché io c'ero in quella morte e non volevo raccontare quello che avevo visto non aveva nessun senso raccontare quello che avevo visto per cui però non è un nascondimento la poesia è un modo per prendere quello che io avevo visto e consegnarlo appunto come peraltro scrivo alla vita di tutti è un'esperienza che ci appartiene nel caso della morte di Lucia o dell'infanzia di Lucia io non c'ero non sapevo niente però la poesia è un canale diretto verso l'invisibile non so non so che parola usare verso quello che non conosciamo quindi attraverso proprio le parole sono le parole della poesia stessa che guidano attraverso ma anche quelle della prosa quando è prosa ritmica musicale attraverso le parole si arriva in dei luoghi sconosciuti ora quando io sono andata parlavo prima di questa casa di campagna perché è stata particolarmente significativa in quanto lì io ho avuto l'impressione di vederla di vedere Lucia che era rimasta lì in quella in quella sofferenza in quel lavoro su quella terra che poi non ha più voluto nessuno ecco lì occorre una voce musicale per incantarla e portarsela via non si può lasciare là sotto grazie visto che abbiamo una poetessa approfittiamone una cosa che io non sono una grande elettrice di poesia non perché non la ami ma grande nel senso che la consumo poco alla volta perché mi rendo conto di questo che mi fa vedere cose che però io non capisco non lo so come succede però credo che la poesia esista per questo io ti mostro una cosa che però tu non capirai ma capisce manco chi la scrive ecco esatto allora siccome avevo visto questo documentario bellissimo su Patrizia Cavalli che hanno fatto Anna Elena Benini e Francesco Piccolo e c'è un momento in cui Patrizia Cavalli dice a me di comunicare non me ne frega niente io voglio scrivere che significa questa cosa qua Maria Grazia visto quello che ci siamo dette sulla poesia voglio scrivere che cos'è scrivere se non se non è comunicare che cosa resta è cercare una una lingua invisibile è cercare allora c'è stato il premio strega poesia qualche poco tempo fa e Silvia Bre che era tra i finalisti che ha scritto un libro magnifico che si intitola Le campane dove non si capisce niente non si capisce niente ma è un libro che ti ipnotizza perché lei poi faceva la prosa diciamo di questo libro e diceva che effettivamente perché è così suggestivo così bello questo libro gli ho dedicato una puntata in radio perché cerca l'origine del suono ed è e lei diceva appunto in questa in queste poche frasi che ha detto a commento lei cerca una una musica un suono che ricorda senza averlo mai sentito ed è così cioè la sensazione è precisamente questa si mette sulla pagina un suono io poi ho detto un suono molecolare che viene il rombo delle stelle il microcosmo il macrocosmo non c'è un nome è una sensazione di appunto un suono originario che ha a che fare con la nostra stiamo qua a parlare di radici che ha a che fare proprio con la nostra radice biologica non astratta che sta nella musica di certa poesia quindi in cerca di quello ma se ci pensate poi la maggior parte dei poeti andando avanti a scrivere scrivono alla fine della loro vita diciamo così quasi tutti la stessa cosa cioè la ricerca del puro suono Pasolini l'ha proprio confessato apertamente cioè a un certo punto da grande poi relativamente grande non ci ha diventato mai ma insomma diciamo all'estremo purtroppo della sua vita ha confessato che avrebbe voluto essere musicista perché la musica ha a che vedere proprio è un gesto che ha a che vedere con la realtà la poesia è questo cioè è la ricerca di questo suono che non c'è nessun nessun bisogno di capire perché non è una traduzione intellettuale o intellettiva quello che ci interessa interessa neanche l'emotività interessa proprio fisicamente portare il lettore da un'altra parte che è la parte dove sta chi scrive quando scrive e quella sensazione lì ce l'hai solo quando scrivi poesia c'è poco da fare non esiste altro sulla faccia della terra grazie complicato molto complicato mi piace molto che adesso dalla poesia arriviamo a Serena Bortone perché questo libro in realtà nasce nasce l'idea di questo libro a te arriva mentre eri ospite da Serena Bortone il programma qual era ancora era io non mi ricordo insomma il pomeridiano di Serena Bortone oggi è un altro giorno esatto che c'era prima delle mani della destra tra l'altro un programma bellissimo perché era un programma nel quale io ho lottato per andare nel senso che avevo avuto un invito da un'altra parte io ho scelto di andare in un programma che era visto da casalinghe dalle persone che guardano la televisione alle due e mezza di pomeriggio perché ho fatto bene perché lì c'era un'amica di mia mamma io non lo sapevo però ho fatto bene cioè raccontaci che cosa è successo perché tu Maria Grazia va da Serena Bortone a parlare dell'altro libro sulla mamma adottiva e invece poi? e invece poi perché io fossi adottabile c'era un un antefatto diciamo che era appunto quello che ho raccontato poco anzi e che ho raccontato davvero brevissimamente in quella trasmissione avendo poi la sorpresa quando sono tornata a casa di trovare delle messaggi su Messenger di persone che avevano conosciuto Lucia cioè la mia mamma biologica di cui io non sapevo niente quindi siccome appunto come ben dice Sottorini era una cosa pazzesca e con un tasso emotivo eccessivo per la mia persona diciamo così io ho aspettato mesi prima di andare a conoscere le amiche di mia madre e poi quando ho cominciato ovviamente non ho più smesso però è nato in verità io quando sono andata a conoscere le amiche di mia madre non pensavo di scrivere un altro libro su un'altra madre pensavo di fare la mia ricerca su mia madre per i fatti miei poi però a forza di parlare con queste persone mi sono resa conto che effettivamente era una storia che aveva a che fare col presente quindi ho pensato che fosse che potesse essere che tutta questa sofferenza di Lucia questo desiderio di libertà di vita di tutto quello che abbiamo detto potesse essere non dico di esempio ma forse un po' di compagnia di incoraggiamento per tante situazioni che ancora oggi esistono e quindi ho deciso di scrivere un libro ma perché mi sono arrabbiata mi sono arrabbiata per tutto questo perché ho visto che è cambiato poco in realtà sì sono cambiate le leggi e questo è fondamentale giusto perché oggi una donna può dire io voglio separarmi voglio divorziare ma comunque se ne dovrebbe andare dal suo paese perché sono strasicura che nello stesso luogo a distanza di 60 anni il giudizio sarebbe lo stesso non solo è anche un paese proprio ostile alla famiglia in realtà che è il paradosso presente no cioè noi abbiamo ma non solo con questo governo da sempre diciamo questa cosa che viva la famiglia e poi in verità questo è un paese irto per chiunque voglia voglia mettere su famiglia ma lo è sempre stato ma lo è proprio culturalmente e ti chiedo se al di là di tutto quello che tu racconti le leggi non c'è in realtà anche qualcosa che è culturale che abbiamo tutti che secondo me abbiamo respirato tutti e che ci rende inospitale nei confronti delle famiglie che dipende proprio da questa difesa dell'idea della famiglia come un nucleo finito concluso autarchico la famiglia del familismo morale non è vero che è un problema meridionale lo dico da terrona insanabile ma perché lo sono banalmente ma è è tutto cioè in questo paese è fortissimo lo chiedo a una persona che ha una invece famiglia evidentemente larga non allargata ma larga ma io sono assolutamente contraria alla famiglia nucleare sono proprio è una è una cosa che mi fa difficoltà concepire o Michela Murgia ci ha lanciato un'ipotesi ha lanciato un'ipotesi su come si possa vivere in un altro modo lei appunto diceva ma come si fa come fa quando c'è per esempio una malattia una un qualsiasi problema grave serio come fa una sola persona a sopportare il carico di tutto questo o quando c'è una donna che si separa e ha dei figli piccoli e magari c'è un marito che o viceversa che non c'è come fa a sopportare tutto questo cioè ci vuole una forza enorme che non dovremmo dover avere cioè ci dovrebbe io sono convinta di questo che la comunità familiare dovrebbe essere stesa dovrebbe essere allargata come era peraltro in realtà nella nostra tradizione cioè tu dici di essere del sud io vabbè non si capisce bene cosa sono ma insomma non importa però nella mia mente nel mio immaginario ci sono i nonni che vivono insieme con i nipoti che uno li molla e va a lavorare i campi e va a scrivere va a fare ecco questo dovrebbe essere solo che è tecnicamente impossibile nel modo di vivere in cui siamo piovuti o meglio che ci siamo costruiti noi oggi nel senso che ogni cosa richiede un appuntamento non è non c'è più una convivenza che io effettivamente auspico fortemente perché viviamo in una solitudine estrema e viviamo in un'aggressività estrema cioè io faccio l'esempio dell'intervista che ho rilasciato alla stampa qualche giorno fa che mi è valsa una io facevo un paragone banale tra l'altro tra quando noi cioè i miei genitori nello specifico e milioni di altre persone che dal sud sono andate a nord in cerca di fortuna alcuni l'hanno trovata alcuni altri hanno vissuto in delle condizioni terribili nei vagoni in mezzo al fango o maltrattati eccetera 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 ora facevo un paragone tra quel tipo di spostamento di di masse umane a quello di oggi dei migranti ebbene questo paragone mi è valso una caterva di insulti questo che cosa significa significa che il modo in cui noi viviamo oggi è pericoloso è aggressivo cioè noi siamo portati ad avercela perché siamo sempre più chiusi questo torna con il discorso della famiglia nucleare no la mia famiglia è un clan che è contro la famiglia del vicino figuriamoci quelli che vengono addirittura da un altro paese è tutta giù la manfrina del che si dicono mau mau rubare il lavoro stuprare le nostre donne e e quant'altro per cui io nella mia nella mia mente nella mia psicologia ho probabilmente per motivi biografici la l'idea di una comune umana ma neanche parentale proprio umana nel senso che i miei parenti più cari sono i miei amici a parte i miei figli non non lo capisco perché dobbiamo vivere così cioè lo capisco perché ci abbiamo adesso spero di non offendere nessuno insomma il vaticano qua però però la realtà ci dimostra che così non va bene grazie in tutto questo i papà che ruolo hanno perché quando parliamo di figli genitori trasmissione identità radici gli uomini sono sempre marginali io ho lavorato a lungo su la genitorialità adesso e mi sono resa conto che i padri sono marginali perché hanno una forma una forma di imbarazzo nel come dire prendersi la scena dirsi e sentirsi anche loro attori e protagonisti della creazione di una famiglia mi sono sempre chiesta se sia perché molto spesso le donne all'interno delle famiglie sono volte violente o lo sono state per tanto tempo perché la famiglia era l'unica cosa che avevano per realizzarsi o l'ho visto nella vicenda delle mie nonne l'ho visto per un periodo nella vicenda di alcune mie zie ma ti chiedo questa cosa qua hai qui il tuo papà biologico non è certamente il protagonista della storia però gli uomini sono anche nella tua storia sono muovono l'azione tantissimo però sono meno indagati perché beh oddio Tonino un po' sì tra l'altro lo conosco per cui ci siamo reciprocamente adottati Tonino che era il primo il fidanzatino della mamma meraviglioso con le lettere meravigliose che gli ha detto ah io per questa donna questa ragazza avrei fatto tutto è così allora effettivamente io ho un problema con Giuseppe cioè mio padre il problema è che lui era sposato con cinque figli e aveva un milione di debito e lui ha lasciato la sua famiglia con un milione di debito e se è dato e se ne è andato con una ragazzina che aveva l'età della sua figlia maggiore capisco perfettamente l'amore non capisco questo comportamento diciamo lo capisco ma non lo approvo quindi mi è meno simpatico diciamo mentre a Lucia io aderisco completamente la capisco la capisco profondamente capisco ogni suo gesto ogni sua scelta questo fatto che lui abbia lasciato la famiglia e se ne sia andato appunto gravando su di loro con una cifra insostenibile tanto è vero che al 99% la moglie non ha riconosciuto il corpo del marito per non ereditare appunto questo debito enorme ecco questo effettivamente me lo rende meno simpatico è però vero che lui ha portato il suo amore fino alle estreme conseguenze quindi di questo bisogna dargliene atto per quello che riguarda i padri è una cosa che mi sono chiesta anche io nel senso che per esempio il caso di Enea e tanti altri sono sempre le madri che lasciano le lettere che lasciano i bambini che vengono pensate come coloro che appunto abbandonano affidano usiamo la parola che vogliamo usiamo le entrambe che sono entrambe vere e sì i padri non è come se fossero irresponsabili fino a un certo punto obiettivamente lo sono nel senso che nei primi mesi di vita sono più marginali anche se adesso non so se tu ti riferisca ai tuoi coetanei perché vabbè quelli della mia generazione non avevano proprio le abitudini a starci con i neonati i ragazzi di adesso sì però io vedo che i giovani insomma le coppie giovani io vedo che i padri sono non proprio equivalenti ma quasi insomma ci stanno si stanno cimentando in questo nuovo esperimento di essere accanto ai loro figli neonati però è vero che naturalmente la figura paterna interviene dopo quindi forse anche questo ha influito io sono stata lasciata a otto mesi quindi in quei primi otto mesi fondamentalmente sarò stata con mia madre probabilmente credo che per quanto lei ha potuto perché sicuramente lavorava e quindi anzi ne sono certa che a un certo punto ero ricoverata e lei veniva ad allattarmi però non mi allattava mio padre mi allattava mia madre quindi è chiaro che il il primo legame è quello nell'altro libro in cui parlo della famiglia adottiva finché c'è c'è anche mio padre poi purtroppo è morto avevo dieci anni però insomma lui è stato una figura fondamentale nella mia crescita morale soprattutto devo dire perché mi ha insegnato con l'esempio ancora una volta l'etica proprio l'etica fondamentalmente l'etica grazie grazie